Se vedi una persona con una crisi epilettica, prima di tutto niente panico. Una crisi sembra quasi sempre peggiore di quello che è. La cosa più importante è proteggere la persona colpita da lesioni e non lasciarla sola. Perciò metti qualcosa di morbido sotto la sua testa e allontana gli oggetti pericolosi. Non tenere ferma la persona. Se necessario puoi allentargli i vestiti. Guarda l'orologio e ricorda quanto dura la crisi. Più tardi sarà importante. Attenzione però, non metterle nulla in bocca. Questo può fare più male che bene. Chiama il 144 emergenza sanitaria solo in caso di lesioni o se ha spasmi per più di tre minuti. Dopo la crisi, controlla se respira e porta la imposizione laterale di sicurezza. Quindi informa il suo contatto di emergenza personale. Se si tratta del primo attacco, serve sicuramente un medico specialista.